Partenza, ore 5.40, per la soldà, il suo piatto. Traverso il secondo tiro e va in sosta. Facile? Siamo vicini di giallo, alla seconda macchia gialla, qui c'è una cingetta, arrivando il sole, fa caldo, pur che pur siano le 7 e 20. Del Gino Soldà, si vede che l'aria c'è sempre su questa via, però si riesce a integrare. Bellissimo tiro, roccia discreta, buona, molto bravi gli apritori. Il Gino aiuta sempre, parte alta della via, mancano 3-4 tiri. 25 metri su sosta ottima, dopodiché abbiamo la discesa nel canale, andare a prendere l'altra. Grazie. Grazie.